Un'unica lingua, un'unica moneta, un'unica legislazione, un unico esercito. Questo era presente tanti secoli fa ed era sotto un unico simbolo. Era l'unica Europa unita che la storia ricorda. Ed era sotto un impero che ha lasciato tracce indialibili nella storia europea e mondiale. E questo era Roma imperiale. Dovrebbero ricordarselo tutti. Per avere la pace ci vuole una unità di intenti senza i quali non si può ottenere.